buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi rispondo ad una signora che mi parla di balbuzia per il figlio dottore le abbiamo provate tutte da anni ma la balbuzia rimane sempre lì al suo posto cosa possiamo fare visto che anche il mio figlio ormai si è stancato non vuole più girare cappella a 16 anni e balbetta io gli ho consigliato un audio mp3 dicesse dal titolo no balbuzia che puoi scaricare direttamente dal sito della mia associazione ipnologia sociale di los angeles beverly hills a cui ho ceduto tutti i miei diritti in quanto la mia mission la mia missione è quella di divulgare diffondere il mio metodo dicesse finché sono su questa terra finché sono vivo finché ascolto finché parlo finché vedo l'ultima delle immagini su questa terra ti posso garantire che centinaia e di balbuzienti hanno risolto il loro problema anche con un solo audio mp3 dicesse perché l'iter completo e audio mp3 dicesse risolvi il tuo problema hai finito di girare cappelle poi ci sono le sessioni online di ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola che al momento sono sospese perché il sottoscritto è pieno di impegni e da poco tempo vediamo se domani le riprendiamo sarai avvertito e poi ci sono audio mp3 dicesse personalizzati però ti posso garantire che la balbuzia proviene dal tuo subcosciente al tuo pilota automatico come linguaggio la lingua per cui devi educare convincere chi comanda dentro di te il tuo subcosciente il tuo pilota automatico i geni della lampada e la vino per eliminare la balbuzia e finalmente parlare come i tuoi amici non vergognarti più non sentirti a disagio in imbarazzo e compagnia bella fammi tutte le domande il caso di risponderò gratis compatibilmente mi temi impegni visita il mio sito internet www.iprologe associati.com la mia fan page su facebook il prossimo riprosi del dottor claudio saracino iscriviti per forza in questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesser dottor con di saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesser dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio e credi in te stesso ricordati l'ipnosi di cesser rispetto alle altre forme di ipnosi funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto l'aiuto di nessuno né online né dal vivo e anche per chi non può un bacio un abbraccio e alla prossima ciao